Stravolgere la mia vita in modo radicale è veramente una volta per tutte qualcosa che ho fatto diverse volte all'interno del mio percorso di vita sia a livello lavorativo sia a livello personale sia a livello di relazioni. Ci sono stati proprio quei momenti in cui ho detto ok adesso lascio tutto, taglio tutto fuori e ricomincio da capo, voglio veramente creare quella vita che ho sempre sognato e vivere al 100% come mi ero immaginata. Ecco questo è veramente quello che sognano tantissime persone e ho provato ad auto analizzarmi a tornare indietro a fare reverse engineering come si chiama quindi ingegneria al contrario per capire effettivamente cos'è stato che mi ha portato più volte perché poi come dice Tony Robbins quando lo facciamo una volta può essere fortuna quando lo facciamo due volte abbiamo una strategia a cambiare in modo radicale la mia vita ad esempio trasferirmi alle Canarie poi trasferirmi prima a Milano alle Canarie cambiare lavoro più volte. Alcune volte passare da ingegnere a marketer adesso imprenditori alcune volte ci sono stati momenti in cui veramente ho tagliato totalmente col passaggio ho detto adesso basta sbam e ho chiuso tantissime 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 porte. Molte persone sono qui proprio perché molte persone vorrebbero creare questo cambiamento stravolgimento in modo duraturo in modo costante quanto meno doloroso possibile e il problema è che pensano che venga da quelle grandi azioni che facciamo una volta nella vita. Quando in realtà quello che ho sperimentato è che cambiare radicalmente vita una volta per tutte e in modo drastico è un qualcosa che avviene attraverso un processo. Un processo che può culminare in dei momenti in cui prendiamo delle decisioni molto molto forti e radicali ma che parte dal cambiamento della nostra identità. L'identità è un po' questo concetto che può sembrare astratto ma non è altro che il modo in cui noi vediamo noi stessi ossia come Monica vede Monica come Monica vede se stessa come Monica si percepisce che pensa di lei che pensa delle sue abitudini del suo aspetto. E può sembrare un concetto molto molto da IP però se ci pensi bene il modo in cui vedi te stesso o te stessa in questo caso genera va a influire sui tuoi pensieri. Il modo in cui pensi va ad avere dei effetti diretti sulle tue azioni perché se penso a è molto più probabile che mi vada a comportare in maniera coerente. Le mie azioni vanno a generare i miei risultati e ovviamente i miei risultati apporteranno un cambiamento o genereranno quelli che sono effettivamente gli effetti concreti che vediamo all'interno della nostra vita. Quindi come la nostra vita ci appare. Modificare la visione che abbiamo di noi stessi è quindi stato per me il punto di partenza per effettivamente arrivare a dei cambiamenti che potessero essere veramente veramente impattanti. Ecco io sono qui alle Canarie e dico sempre sono il miglior momento della mia vita, sto vivendo quello che volevo, sto vivendo quello che sognavo e che immaginavo con i miei colleghi all'Università Ingegneria di Napoli e da allora sono passati forse neanche dieci anni, meno dieci anni ma ho sentito di vivere cinque, sei vite in una e sono effettivamente arrivata a dei cambiamenti radicali. Sì può essere anche l'età come molti direbbero, io direi se c'è la mentalità giusta possiamo arrivarci e possiamo anche oggi se hai più di 30 anni come me puoi arrivare a un cambiamento radicale e ho tantissimi studenti all'interno del mio percorso Copy Get Away Mastermind come sempre Roberta che più di 30 anni, altre Federica che aveva più di 40 anni che hanno veramente stravolto la propria vita, hanno lanciato il proprio business con la scrittura online. All'interno di questo video voglio proprio svelarti quali sono, come mettere in atto ovviamente questo cambiamento importante, radicale nella tua identità, quali sono quelle piccole cose quotidiane da cui sono partite e questa è una cosa importante perché di solito quando voglio fare un grosso cambiamento, si sparo alto, voglio fare questo, voglio fare quest'altro, voglio fare quell'altro, ma poi penso ok ma se io devo iniziare oggi, adesso, in questo momento, che cosa devo fare, da dove devo partire, no? Quindi partiremo da quelle piccole azioni quotidiane che però a lungo andare creano un impatto veramente veramente potente e come effettivamente arrivare a un cambiamento consistente nel modo meno brutto possibile, meno impattante a livello di stile di vita ma meno impattante possibile a livello emotivo perché poi all'interno dei cambiamenti c'è tutta una parte emotiva che dobbiamo tenere in considerazione e che spesso e volentieri può bloccarci. Prima di iniziare lasciamo un like a questo video se questi temi ti interessano, iscriviti al canale perché quando usciranno nuovi contenuti simili verrai avvertito. Allora adesso iniziamo subito e se ci pensi siamo davvero fortunati ad essere qui, io mi ritengo super fortunata ad essere venuta in contatto con questi concetti di crescita personale come possa essere l'identità perché secondo me è solo il 5% della popolazione che le conosce e poi effettivamente le applica, le mette in pratica per creare un cambiamento che sia effettivamente concreto all'interno della nostra vita perché conoscere non è poi sinonimo di applicare, non è poi sinonimo di ottenere dei risultati ci vuole tutto questo incastro fatto alla perfezione per ottenere effettivamente un risultato tangibile e visibile all'interno della nostra vita e posso dirti e posso confessarti che inizialmente non ci credevo nemmeno io a tutte queste cose da IP che raccontavano nei libri di PNL però alla fine mi sono seduta e pensato ok sì ma la mia vita non cambierà se continuo a fare quello che sto facendo oggi fare queste robe non costa nulla tanto vale la pena provarci io comincio ad applicare tantissime tecniche di crescita personale a modificare le mie abitudini partendo da cose davvero molto molto piccole che agli occhi esterni potevano sembrare a volte quasi impercettibili ma che a lungo andare si sono sommate dopo 10 anni posso vedere degli effetti pazzeschi e puoi vederlo anche all'interno di questi video YouTube quando ho pubblicato il primo video forse nel 2016 che ero nel mio appartamentino a Milano nel primo video ecco l'albero di Natale dietro che avevo uno script lunghissimo leggevo parola per parola adesso invece vado quasi a braccio ero una persona totalmente differente proprio nell'apparenza nello sfondo adesso invece mi presento in maniera totalmente differente perché io internamente sono cambiata ed è proprio questo cambiamento gli elementi che ho cambiato che voglio mostrarti all'interno di questo video perché come dicono i maggiori formatori di crescita personale nel mondo attraiamo ciò che siamo quindi siamo noi che dobbiamo prima di tutto diventare la nuova versione che vogliamo rappresentare al mondo e a quel punto l'universo ci vedrà come la nuova persona che vogliamo diventare e inizierà a portare a noi le risorse che ci servono per arrivarci e anche qui concetto super super hippie ma in realtà se ci pensi anche noi esseri umani interagiamo con le persone con sensazioni o in base a ciò che vediamo di queste persone se una persona la vediamo curata con orecchini dorati eccetera siamo più propensi a pensare che sia una persona ricca e una persona di successo rispetto magari alla persona che vediamo col jeans e l'infradito così in spiaggia questi ovviamente sono degli stereotipi però ovviamente la parte ciò che noi pensiamo di noi e come noi attuiamo all'esterno ha un impatto sulle persone che effettivamente poi ci circondano e con cui ci troviamo ad interfacciarci e spesso non è consapevole al 100% anzi la maggior parte delle persone non ne sono consapevoli perché siamo presi al trambusto della nostra vita fare 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 cose e non si rendiamo conto magari ci lanciamo nell'armadio la mattina mettiamo le prime cose che ci capitano e quando si rompono le ricompriamo oppure facciamo shopping a palla perché semplicemente dobbiamo dare sfogo alle nostre diciamo tristezze della giornata e frustrazioni quando in realtà curare tutti questi aspetti che ora andremo a vedere ha un impatto consistente essere consapevoli questa è la parola chiara avere quella consapevolezza di dove vogliamo arrivare e che persona dobbiamo essere per arrivare dove vogliamo arrivare adesso quindi ti mostrerò quali sono passo dopo passo e partendo dal più semplice fino a più complessi le parti che ho dovuto cambiare passo dopo passo per arrivare ad allinearmi alla mia nuova identità e fare dei passi in avanti molto importanti nella mia vita come ad esempio aprire la mia azienda quindi diventare imprenditrice andare a vivere alle canarie questi sono solo i due poi potrei raccontare altre mille cose ma non è questo il tema di questo video primissima cosa che puoi cambiare veramente adesso in questo momento è un elemento su cui anche io sto ancora lavorando è che sto lavorando in questo momento perché sento che sono in una fase di cambiamento dove non devo fare un cambiamento radicale ma comunque voglio apportare qualcosa di nuovo all'interno della mia vita è l'ambiente per ambiente non pensiamo di andare fuori no no l'ambiente cioè dove sei tu in questo momento la tua stanza il tuo ambiente di lavoro la scrivania dell'ufficio cos'è che può essere migliorato no? se vedi qui intorno anche io ho diversi oggetti ho delle agende molto carine ho una cornice dorata ho il mio profumo preferito ho un profumatore per ambienti eccetera c'ho tante cose che piano piano ho messo in piedi perché per me dovevano rappresentare qualcosa dovevano essere degli stimoli che mi facevano vedere come persona coerente all'identità di imprenditrice che volevo essere che volevo rappresentare che voglio essere quindi il nostro ambiente esterno anche proviamo ad osservarlo innanzitutto proviamo a guardare che cosa c'è intorno a noi ci sono sedie c'è luce è un ambiente cupo è un ambiente aperto ci rappresenta non ci rappresenta ci sentiamo bene quali sono le sensazioni che proviamo all'interno e pensiamo alla persona che vogliamo diventare dove vogliamo arrivare ok mi rappresento oppure no ci sono delle immagini che mi ricordano per esempio i miei obiettivi io tendo comunque sempre ad associare associare a delle immagini che mi possano ricordare anche di quelle che sono le sensazioni che voglio provare perché molto spesso e tutti quanti i giorni riceviamo degli stimoli in ogni momento in ogni secondo tutto ciò che abbiamo intorno se controlliamo in maniera consapevole rendiamo questi stimoli da inconsapevoli a consapevoli quindi il nostro cervello insomma registrerà delle informazioni che saranno più coerenti alla direzione che vogliamo prendere all'identità che vogliamo effettivamente raggiungere e anche qui passeremo passo dopo passo dal cambiare inizieremo a cambiare inizieremo a sentire quella spinta oddio cioè questo oggetto lo devo proprio togliere ti inizierai a comportare in modo diverso questa è la cosa che ho notato mi comporto in modo diverso quando le persone entrano in casa mia oggi rispetto a quando entravano in casa mia a Milano io sono una persona totalmente diversa faccio cose differenti e a questo punto dobbiamo passare allo step numero due anche questo molto importante per noi donne è fantastico perché si tratta di andare a lavorare sui vestiti gioielli e accessori quindi cosa comunichi di te questo tutta questa chiamiamola corteccia che ci portiamo che ci portiamo addosso costantemente comunica qualcosa di noi non solo all'esterno ma soprattutto a noi stessi perché quando ci guardiamo nello specchio ci dobbiamo sentire fighi ci dobbiamo sentire allineati alla persona che vogliamo diventare se voglio essere l'imprenditrice figa che vive alle Canarie mi presento con una bella camicia che si ha uno stile abbastanza chiamiamolo esecutivo formale ma che ha un pizzico di stravaganza chiamiamola così un pizzico di eleganza e un pizzico poi di tocco chiamiamola così sbarazzino giovanile mi presento con gli orecchini dorati mi presento con l'anello così e con quest'altro anello qui per appunto creare quella senza per vedermi bene innanzitutto ma per allinearmi alla persona che voglio essere quindi ho osservato le persone che volevo diventare ho visto come attuavano come si muovevano ma soprattutto come si vestivano come si presentavano al mondo perché ciascuna cosa che scegliamo all'interno della nostra vita che ci mettiamo addosso soprattutto e che ce la portiamo intorno tutti i giorni ha un impatto nel vederci perché se magari trovo uno specchio e mi vedo e mi sistemo ho un effetto di me che è totalmente differente rispetto a che se adesso mi fossi presentata col pezzo di sopra del costume potevo farlo benissimo però ho scelto di non farlo consapevolmente e ho eliminato dal mio armadio tutte quelle cose e vestiti che non mi stavano bene colori che non mi stavano bene capi che avevano un taglio che non rappresentavano l'imprenditrice la persona che volevo diventare la persona di successo che volevo diventare perché in questo modo ogni giorno quando mi lancio nell'armadio anche se voglio voglio prendere la prima cosa e metterla troverò soltanto cose che sono fighe fighe e allineate alla persona che voglio essere in questo modo iniziamo a lavorare a ingannare tra virgolette il nostro cervello in maniera positiva perché le azioni che facevamo automaticamente prima adesso sono sempre automatiche ma portano un output migliore di quello che ci generavano prima fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questa parte di questo video perché è molto molto interessante adesso passiamo alla seconda parte in cui ci sono tre cambiamenti che sono più bruschi già i primi due sono molto interessanti di solito quando voglio iniziare a cambiare parto da questi però gli ultimi tre hanno un grosso grosso impatto non posso nascondertelo sono più difficili a mettere in pratica però signori se vogliamo cambiare ovviamente dobbiamo essere disposti a metterci anche quello sforzo in più a dire dei no molto potenti e effettivamente a fare fare qualcosa di diverso per ottenere qualcosa di diverso e lo dico sempre all'interno dei miei percorsi di formazione innanzitutto soprattutto nelle coaching di gruppo che teniamo con i nostri studenti del mastermind copy gateway che ragazzi dobbiamo essere disposti a fare quelle azioni che ci portano verso il successo se siamo bloccati è perché c'è qualcosa che non va non è colpa di nessuno non è colpa dell'esterno è colpa di noi internamente dobbiamo andarci a leggere dobbiamo avere il coraggio di leggerci e di andare al di là della paura e fare quelle azioni che ci portano effettivamente ad ottenere dei risultati a proposito di questo se sei interessato a fare un cambiamento radicale dal punto di vista lavorativo perché vuoi costruirti un lavoro libero e indipendente grazie alla scrittura online e diventare copywriter di successo qui sotto ti lascio il link al webinar gratuito più incredibile di sempre in cui spiego come passare da 0 a 3.000 euro al mese con la scrittura online grazie al metodo The Copy Gateway che hanno già applicato centinaia di studenti con incredibile successo vai al link qui sotto e guardati il webinar perché veramente troverai delle informazioni impattanti per trasformare la tua vita grazie alla scrittura online ma adesso passiamo al terzo punto che dobbiamo cambiare che possiamo iniziare a cambiare per effettivamente stravolgere la nostra vita e fare quel cambiamento interno di identità di cui stavamo parlando e questo terzo punto è proprio il dialogo interiore che può sembrare anche qui altra cosa super hippie che però in realtà è una cosa molto molto semplice anche qui automatica che facciamo tutti i giorni che sono le parole che diciamo a noi stessi nella nostra testa i nostri pensieri mi sveglio al mattino cosa penso di me quando mi guardo allo specchio mi guardo e mi dico sei fantastica ti amo sei meravigliosa oppure io dico mamma mia che faccia che hai oggi mi sono stanca non ne posso più eccetera eccetera e questo in tutta tutta la nostra vita cosa pensiamo delle persone che incontriamo cosa pensiamo del cibo che mangiamo come parliamo a noi stessi e quali sono le credenze che noi abbiamo e qui entriamo nel tema delle affermazioni ossia andare a cambiare il nostro dialogo interiore e andare a cambiare le nostre credenze lavorando proprio sulle affermazioni positive quindi in questo caso sono una persona abbondante se ci rendiamo conto osservando il nostro dialogo interiore che ad esempio abbiamo delle tendenze di scarsità perché? perché vediamo che la vita è scarsa vediamo che abbiamo pochi soldi vediamo che non abbiamo abbondanza eccetera eccetera partire dal dialogo il dialogo interiore è una parte molto molto importante perché va a avere un effetto su come noi attuiamo è una parte importantissima della nostra identità perché definisce anche le nostre credenze che spesso sono purtroppo o per fortuna perché ci sono credenze positive e negative trasmesse e registrate nel nostro cervello da abitudini familiari da questioni familiari quindi c'è anche da andare a scavare nelle abitudini come si comportano ad esempio i miei genitori come si comportavano i miei nonni da che contesto venivano mi faccio queste domande nel momento in cui vedo dei comportamenti automatici che non sono allineati con la nuova persona con la nuova identità che voglio creare e che in questo caso mi stanno bloccando quindi questa è una parte su cui puoi iniziare a lavorare proprio partendo dalle affermazioni positive se proprio vuoi tenerlo semplice oppure una parte di osservazione dei tuoi pensieri tieni un diario in cui osservi i tuoi pensieri anche questo molto semplice ma può creare un impatto comunque crea un impatto interessante a lungo termine io lo utilizzo sempre e ho visto che credenze che ho iniziato a programmare nel passato stanno avendo un effetto oggi quindi oggi credo di essere una persona abbondante perché nel passato ho lavorato sull'abbondanza quindi è un processo molto molto più lento quarto punto lavorare e questo è un punto molto molto tosto forse non so se il quarto il più tosto il quinto perché il quarto è andare a lavorare sulle persone che frequentiamo le persone che sono intorno a noi il nostro intorno svolge un ruolo importantissimo sulla nostra pace mentale sulla direzione sui risultati che possiamo ottenere perché se ci circondiamo di persone che non vogliono raggiungere i nostri stessi obiettivi ci trascineranno indietro e non saremo motivati se invece ci circondiamo di persone che hanno ottenuto risultati che vogliamo raggiungere anche noi effettivamente o che hanno la nostra stessa mentalità o che comunque sono proiettati verso i nostri stessi desideri per noi sarà molto molto più facile avanzare e ottenere quel supporto che effettivamente di cui abbiamo bisogno per andare avanti per cambiare vita perché so che può essere molto difficile perché alcune volte magari le persone che ci ostacolano sono i nostri partner i nostri amici fidati dell'infanzia o anche ad esempio i nostri genitori parte dei nostri affetti familiari dobbiamo avere comunque il coraggio di tagliare fuori persone che possiamo tagliare fuori ovviamente io l'ho fatto con diversi vecchi amici non l'ho fatto con la mia famiglia ovviamente però li ho educati a capire qual era la direzione che volevo prendere quindi arrivare a un ibrido dove tagliamo fuori con coraggio dove possiamo tagliare fuori perché è molto importante e allo stesso tempo educare persone che sono importanti nella nostra vita o comunque portarle all'accettazione perché ovviamente non possiamo effettivamente educare tutti e il quinto punto è cambiare il luogo in cui vivi in parità e allo stesso modo in cui le persone intorno a noi hanno un effetto ancora di più a effetto il luogo in cui viviamo io l'ho visto quando mi sono trasferita a Milano in cui ho conosciuto il marketing e ho deciso poi di lanciarmi in questa nuova attività lasciando la mia carriera in ingegneria non l'ho lasciata a metà l'ho lasciata completa 100% con numerose richieste di lavoro che stavo ricevendo sia in Italia sia in Europa da grandi aziende ho deciso di lanciarmi qualcosa di nuovo perché l'ambiente intorno mi ha cambiata mi ha stimolata in un certo senso poi quando mi sono trasferita al Gare ovviamente qui alle cadare è stata veramente la spinta finale per arrivare poi a quell'evoluzione che stavo cercando all'interno della mia vita non tutti sono pronti a farli sono pronti a fare questo cambiamento è molto molto impattante però è qualcosa che ragazzi in sei mesi potete vedere qualcosa di strabiliante nel momento in cui cambiate le persone che frequentate il vostro ambiente che poi sono collegate quindi andare via per allontanare alcune persone che per noi sono tossiche e spingere quella parte di cambiamento dell'identità in modo ancora più impattante che può portare risultati poi veramente veramente strabilianti per te per te che veramente non ti riconoscerai più come persone e dirai caspita adesso veramente ho fatto un cambio importante e vedo che sono la persona che voglio essere e vedo che